Parliamo adesso degli allenamenti per il dimagrimento o per l'allenamento cardiovascolare. Cambio la presa, spinta e presa standard, 1. Contrague del tolto posteriore, anche qua vuoi importante il tocco così il cliente percepisce la zona da contrarre. 21 anni, vengo dalla zona di Pavia. Vengo dalla Basilicata, però vivo a Pescara dove lavoro. Presso la Federazione Italiana Fitness, poiché l'aveva fatto un mio amico l'anno scorso e me ne aveva parlato molto bene. Ho voluto scegliere questa come professionalità, come anche serietà, perché comunque è riconosciuta sia da alcuni ma anche all'estero. Spero di riuscire a trasformare questa mia passione per l'allenamento con i pesi in un lavoro. Se devo essere sincero, il mio obiettivo sarebbe quello di diventare un personal trainer o comunque un preparatore atletico. Quindi adesso frequenterò questo corso, però sicuramente in prospettiva ci saranno altre occasioni per rivederci. Grazie a tutti.